E' giunto sulla spiaggia di Termevigliatore in località Cannotta, trasportato dal moto ondoso, probabilmente a seguito delle mareggiate che hanno interessato la costa nei giorni scorsi. Un grosso oggetto metallico, probabilmente un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato notato dagli abitanti delle villette ubicate a ridosso dell'Arianile in uno dei punti panoramici più incantevoli della costa tirrenica. Subito sono stati avvisati i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che sono intervenuti sul posto ed hanno immediatamente provveduto a transennare all'area circostante il presunto ordigno, rimanendo poi a guardia, sebbene a distanza di sicurezza, per far desistere eventuali curiosi dal potersi avvicinare troppo. Agli artificieri spetterà il compito di analizzare l'oggetto e provvedere, nel caso si trattasse di una bomba, a metterla in sicurezza, procedendo eventualmente al suo disinnesco. Sembra che l'oggetto metallico sia giunto a riva a pelo d'acqua e ciò farebbe pensare alla sua non pericolosità. Peraltro la presenza di diverse conchiglie ed elementi dell'ambiente sottomarino evidentemente visibili sulla superficie esterna, testimonierebbe come l'ordigno sia rimasto sul fondo del mare per un lunghissimo periodo di tempo.